Questo qui è un nuovo video, questo video sarà un nuovo video in questione, cioè musicali o video musicali, però non andremo a fare un musicali, ma andremo a fare, appunto, e andremo a ricreare musicali più famosi. Lo so, siamo arrivati a 20 iscritti, infatti devo ancora preparare delle ultime cose per lo speciale, tra l'altro ogni volta che facevo un video sbagliavo, quindi lo è terminato. Poi, per la settimana prossima, mercoledì, ho un video che uscirà sul canale, The Room Tour, ovviamente siamo arrivati a 20 iscritti, quindi grazie mille, e appunto sono molto felice, per questo so che siete avventati di più, e quindi ne ascoltate in molte più persone rispetto a prima, che ne eravamo 12, la prima volta che ho visto, proprio visto, erano 12. Allora, iniziamo dal preso punto che inizieremo con il musicali di Iris Ferrari, perché chi mi sa che è più carino questo cavolo devo fare. No, aspetta un attimo, mi sono sbagliata in musicali. Andiamo in classifica, iniziamo con la prima che è in lamaino, 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 lamaino. E la prima che sto pensando di fare è... Ok, a chiudere il suo video in musicali. 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 Ok, raga, fa schifo, ve lo faccio vedere. Sto caricando anche il musicali di Alta, anche tutte le cose, ovviamente. E' venuto, mi è fatto bene. Cioè... Pietro e confronto... Non lo so, provate a vederli tutti i due e poi... Però vabbè. Pensiamo alla prossima persona, che è una youtuber musicali che conosco, come lamaino. In questo caso, sto pensando alla youtuber Iris Ferrari, che mamma mia. Amo Iris. Ma non è questo musicali. Era questo qui. Che vi faccio vedere. Cioè, non so se farvi il confronto. Facciamo così. Poi, vi metto in musicali della... Iris. Iris, non mi sa. Iris è quello mio, quindi... Niente. Buona visione. Allora, ok. Poi lei ha dei momenti del cellulare, quindi io non so fare. Poi lei ha dei momenti del cellulare, quindi io non so fare. E vabbè, più o meno era questo qui, non l'ho fatto proprio giusto, mio Dio. Quindi sarà un po'... Sono un po'... Ah, tipo... Non so più come si fa, vorrei vivere ogni ora come fosse l'ultima. Ma so che c'è, non posso per me, ma nulla senso se qua non ci sei se vieni via a te. Io non so più come si fa, vorrei vivere ogni ora come fosse l'ultima. Ma so che c'è, non posso per me, ma nulla senso se qua non ci sei se vieni via a te. Da, che vergogna! Che vergogna contro Iris Ferraria e Iris. Se vedrai mai in questo video dovrai capire che non sono mai brava a fare musicali, anche se mi diverto a farli, quindi... Non c'è... Fanno schifo tutti i musicali che ho fatto. Poi, non solo faremo, faremo, non solo faremo, dopo quelli di Rosalba, inizieremo anche quelli global. Anzi, facciamo così, se raggiungiamo la quota massima di... No, facciamo così, anzi, se raggiungiamo i sette like farò... Provo a fare musica di quelli global, quindi quelli global. Forza, sette like. Sette like, mamma mia. Rosalba? Non c'è male, Rosalba mi piace. Sì, proviamo a fare un suo musicali. Ok, ho già scelto... Lo sto rivedendo, è ottimo. E' un po' difficile, ci voglio provare, perché siete voi, quindi ci voglio provare anche, sono molto difficile, come musicali. No, mi sono già scordato al musicali. Vabbè, difficile, difficile. Ah, ho capito. Si è laggato pure il musicali, no? No, vabbè, ragazzi, si è laggato il musicali. Si è laggato il musicali. Proprio nel momento del bisogno, il musicali mi stai abbandonando. Poi è così. Non sento la musica, faccio lo schifo. Il giro che fa schifo. Fa schifo. Scrivendo. Ok. Se lo faccio vedere prima quello mio. Voglio farvi vedere quello di Rosalba, perché se no mi viene da vomitare, perché il mio fa schifo far vedere quello di Rosalba è una vergogna. E anche tu, Rosalba, se vedrai mai questo video, impara che io non so fare il musicali. Niente. Questo qui era il video. Spero che il video vi sia piaciuto. Spero che vi abbia tenuto compagnia. Però sono certa che adesso cadete in bagno a guardare questo video montano. Quindi, niente. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi dando un grosso bacione. E niente. Da Rubina è tutto. Ciao. Ciao. A casa diciamo. Hai comunque... Ciao. 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 Ciao.